Giugno 1997, apriva Pentacolor. Sono passati 25 anni e siamo ancora qui a darvi il benvenuto nel nostro punto di vendita che in questi 25 anni è diventato un punto di riferimento per hobbysti, professionisti nel mondo delle vernici, nel mondo delle belle arti e nel mondo degli articoli scolastici. Cerchiamo di darvi sempre un servizio all'altezza di quello che è stato in questi 25 anni e di darvi prodotti sempre innovativi e sempre performanti e nuovi per le vostre esigenze di qualsiasi tipo. Hobby, scuola, belle arti, lavoro. Grazie e buona giornata a tutti.